Domani mattina Barisone e Solini proveranno e faranno qualcosa in più rispetto a quello che hanno fatto oggi per capire se potranno essere della gara non rischiando assolutamente niente o almeno a disposizione in panchina. I sicuri non disponibili oltre ai due squalificati saranno Grossi, sarà Ferrario e sarà Luigi Luciani perché ha preso l'altro giorno in allenamento una gran botta sul quadricipite e ha avuto uno stravaso di sangue importante e non è in grado di poter essere disponibili per questa gara. Quindi detto questo abbiamo fatto la conta e vedremo un pochettino comunque domani di mettere in campo una squadra battagliera, una squadra che è pronta a ribattere colpo su colpo ad un avversario che ha necessità assoluta di punti per potersi tirar fuori dalla zona calda della classifica e ha rischio anche non solo una posizione play out ma ha rischio anche della retrocessione diretta. Però noi vogliamo mantenere il terzo posto, vogliamo recuperare quei punti che abbiamo lasciato per strada nelle ultime due gare casalinghe perché la convinzione che meritassimo soprattutto nella gara con la Gianna qualcosa in più per quello fatto ce l'abbiamo e dobbiamo avere la voglia di andarceli a recuperare già nella gara di domani. L'avere recuperato completamente anche se ha fatto solo due allenamenti con la squadra Luciani e Alessio mi dà anche la possibilità di poter tornare con la difesa a quattro. Vediamo un pochettino, anche se tornando con la difesa a quattro dovrei far giocare difensori centrali Muscat e Sabatino con Masciangelo terzino sinistro. Questa è un'opzione. L'altra è quella di far giocare Rossetti come difensore centrale in mezzo a Muscat e Sabatino. Mi darebbe di più rispetto a Cenetti in centimetri, mi darebbe di più sicuramente nel gioco aereo se dovessero arrivare a crossare negli ultimi metri e probabilmente mi darebbe anche qualcosa di più in fase di impostazione soprattutto per i cambi gioco. Detto questo, del reparto arretrato Arcidiacono può giocare tranquillamente sia da seconda punta che da esterno in un 4-4-2 come ha già dimostrato. Da seconda punta in questo momento è libero di muoversi, è libero di svariare, è libero di attaccare lo spazio, di venire a prendere palla anche tra le linee. Da esterno è chiaro che gli viene richiesta un pochettino più di corsa all'indietro, un pochettino più di corsa a lavorare sul terzino, però avrebbe sempre la possibilità di esprimersi tanto in fase offensiva con la possibilità di scegliere se ricevere palla addosso oppure attaccare la profondità a seconda di quanto sarà vicino a lui l'avversario diretto. Grazie.